ecco mi trovo qua in macchina adesso scenderò dove è successo l'incidente alla curva dove la nipote del milionare insieme all'autista che guidava il suo amico compagno non so chi di 23 anni lei 19 dove hanno fatto quel max incidente che sono finiti nel lago vi farò vedere la curva che c'è che così vedremo insieme che anche se va un eccessiva velocità uno può andare fuori va bene però molte circostanti ci sono ancora delle cose un po strane quindi ve le vedrete adesso da voi ok io sto andando piano per farvi vedere più o meno il percorso qui quindi dico quanto può andare veloce una persona per andare fuori lì guardate bene quanto può andare veloce per andare fuori così cioè è quello che è la cosa assurda avete visto cioè non è che io accelero apposta per andare giù quella è la cosa molto strana avete visto abbiamo passato prima c'è è strano quello sì non c'è una spazio di frenata non c'è niente io vi dico che è strano vi dico adesso sono sceso piano però vi dico che sono sceso piano ma se uno scende veloce allora vuol dire che io adesso dopo la curva c'è loro per andare lì e quindi io vi dico che molte cose strane visto che erano anche persone molto potenti nipote del petroliere che benissimamente potevano eliminare o qualche cosa c'è sotto perché non c'è uno spazio di frenata poi adesso sono sceso con voi per farvi vedere e quindi il mistero rimarrà per sempre però io da mia dalla mia parte non è bella chiara la cosa non è un incidente così tanto normale come tutti i video vi saluto e fate l'iscrizione ciao a tutti